Come vedi la situazione che si sta delineando al confine tra Siria e Turchia in questi ultimi giorni? La situazione che si sta delineando è una situazione drammatica. Quest'operazione militare avrà dei costi enormi, un costo sociale. Si sta parlando di una regione dove vivono più di 5 milioni di persone. Come vedi quindi la situazione, lo scenario nel breve periodo e perché si è arrivati a tutto ciò? Questo darà la possibilità a ISIS di farsi forza, di tornare forte. Si è arrivati a tutto ciò perché ormai è da anni che le politiche di Erdogan sono rivolte a un'espansione, a tutto questo nuovo progetto neottomano. Leopoldo, tu hai vissuto per un anno in Siria e sei tornato a giugno e ti sei arruolato nello Ipeghe, questo esercito di difesa del popolo kurdo. Ecco, durante questo periodo cosa facevi, di cosa ti occupavi, qual era la tua attività? Sì, allora io mi sono arruolato a dicembre nello Ipeghe. Chiaramente non è un esercito regolare, ma anzi svolge diverse mansioni, una su tutte, appunto la difesa e tutela della popolazione. Quindi è corretto però dire che mentre eri là tu hai combattuto lo Stato Islamico? Sì, noi sì, all'interno appunto, all'interno dello Ipeghe. Tornerai laggiù a intenzione di arruolarti nuovamente? Credo che in questo momento sicuramente il ruolo che mi sento di giocare è qui in Italia. Leopoldo, c'erano altri italiani laggiù con te durante il tuo periodo di permanenza? Ricordiamo il sacrificio di Lorenzo, di Lorenzo Orsetti che ha sacrificato la sua stessa vita per questo progetto confederalista contro e per arginare la minaccia dell'estremismo islamico.